Assindustria Veneto Centro durante l'emergenza sanitaria è stata parte attiva e non solo propositiva nell'attuare in collaborazione con moltissime realtà aziendali del territorio una significativa raccolta fondi da devolvere ad alcuni enti istituzioni del settore sociosanitario e della ricerca. Il tema è stato nessuno si salva da solo e in questo caso io penso sia stata veramente importante vedere la risposta da parte degli imprenditori. Il giorno dopo del lockdown ci siamo subito attivati, molti imprenditori, molte imprese hanno immediatamente risposto e abbiamo potuto raccogliere una cifra considerevole, cifra che è poi stata dedicata secondo quelle che erano le indicazioni del nostro Consiglio Generale in vari ambiti, dalla ricerca al sostegno per i più anziani, al sostegno per la pediatria e perciò essere veramente parte di quella che è la vita sociale di questo territorio. Più al di là delle cifre però è un bel esempio di lavoro di squadra per far sì che queste risorse venissero destinate a dei progetti che erano progetti importanti e che comunque aiutano il singolo cittadino. Un bel esempio di come il Veneto, di come Treviso e Padova in particolare siano stati in grado di fare qualcosa di bello e tutti insieme. Fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica, acquisto di apparecchi indispensabili per la sanità del Veneto, ambulanze e mezzi di soccorso per la protezione civile, la Croce Rossa, Vigili del Fuoco e hospice pediatrico. Sono queste alcune delle voci di spesa che nei mesi scorsi hanno visto la realizzazione di grandi interventi finanziati dalle donazioni delle aziende di Padova e Treviso. Assindustria Veneto Centro ha fatto il bilancio di queste iniziative. Sono stati raccolti infatti oltre 1.300.000 euro impegnandone già in spese concrete quasi 549.000 a favore di ospedali, enti di ricerca, fondazioni e volontariato. È una grande soddisfazione e li ringrazio tutti e mi sono sentito orgoglioso di essere parte di questa comunità. Questo intanto è un grande risultato. Io parte di una comunità, non io Massimo Finco, ma io associato. Io voglio proprio dire tutti i 3.500 associati di Assindustria Veneto Centro che oggi erano lì in televisione con noi, perché noi li abbiamo sentiti vicino. Li abbiamo sentiti vicino perché la risposta che hanno avuto tutti i nostri associati è stata grande. Io dico sempre, mai come in questo momento sto capendo che nessuno si salva da solo. Qui non c'è una risposta sanitaria se non c'è risposta economica e non c'è risposta economica se non c'è risposta sanitaria. Mettiamoci in testa subito che le aziende devono lavorare e noi dobbiamo aiutare per la massima sicurezza possibile. Mi ricordo, era ancora a fine primi di marzo, fine febbraio, non mi ricordo il giorno esatto, abbiamo lanciato subito questa raccolta che ci ha dato anche soddisfazione perché abbiamo capito che avevamo un grande sistema associativo vicino. Abbiamo cercato di fare meglio possibile sentendo le domande che ci venivano da fuori, ponendoci a disposizione del territorio e ascoltando il più possibile in modo molto democratico tutti i nostri associati attraverso le nostre delegazioni e il nostro Consiglio Generale. Tra le donazioni rese possibile della generosità delle industrie venete ci sono l'acquisto di apparecchi e dispositivi medici per l'ospedale di Schiavonia e il cofinanziamento del progetto di screening della regione con l'Università di Padova e la Croce Rossa per isolare gli asintomatici ma anche l'arrivo di un mezzo di trasporto per l'ospis pediatrico di Padova.